Allora io vorrei cominciare un po' come con un po' di filmati. Un po' di filmati, un po' di filmati. 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 ogni giorno ogni giorno allora parto da questo avvertimento per così dire della Caritas in Veritate numero 45 l'ultima enciclica del Benedetto sedicesimo un po' sul mondo dell'economia rispondere alle esigenze morali più profonde delle persone lo leggo il punto principale alla fine anche importanti benefici ricaduti sul piano economico allora in qualche modo ci sta dicendo che anche comportarci bene eticamente è il cammino di un buon successo economico alla lunga almeno l'economia infatti ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento dice la stessa tutte le attività dell'uomo funzionano meglio se è integrale e integrale oggi si parla molto di etica in campo economico finanziario e aziendale questi processi suscitano apprezzamento e meritano un ampio sostegno i loro effetti positivi si fanno sentire allora non c'è o sa dubbio su questo ma dice il Papa qual è etica qual è etica allora per molte persone questa non è le persone forse non lo capiscono ma c'è una sola etica o ci sono ci sono milioni di etica o sa le due le due impressioni o sa uno no qual è l'etica e la moralità eccetera eccetera no ma dice lui dice bene tu devi elaborare anche un valido criterio di scendimento in quanto si nota un certo abuso dell'aggettivo etico che adoperato in modo generico si presta a disegnare contenuti anche molti diversi al punto di far passare sotto la sua copertura decisioni e scelte contrarie alla giustizia e al vero bene dell'uomo è una è una frase forte forte o sa no passare sotto la copertura della etica decisioni contrarie alla giustizia e al bene dell'uomo molto infatti dipende dal sistema morale di riferimento che cosa è questo sistema morale di riferimento allora dice su questo argomento la doctrina sociale della Chiesa ha un suo specifico apporto da dare perché si fonda sulla creazione dell'uomo ad immagine di Dio un dato da cui allora lui dice questo è il punto di partenza l'uomo creatura di Dio fatta a immagine di Dio allora questa è la grande la grande affermazione o sa davanti a molte interpretazioni dell'uomo redotto alle volte alla biologia o alle emozioni o alle neurone neuroni eccetera eccetera allora da lì discendono due principi dice l'inviolabilità inviolabile dignità della persona umana e secondo il trascendente valore della norme morale naturali allora questo secondo aspetto è quello che io adesso esaminerò ossia noi parliamo oggi di responsabilità sociale etica morale bene male eccetera eccetera ma questo qual è il trascendente valore c'è qualcosa che cosa vuol dire trascendente vuol dire fuori di noi in qualche modo qualcosa che mi trascende allora qui c'è una grande in qualche modo una guerra culturale che dobbiamo dire c'è una specie di abisso fra due concezioni uno è che l'essere umano ha qualche collegamento con qualcosa che in qualche maniera lo trascende e l'altro è l'uomo rinchiuso in se stesso bene allora questa è la grande per così dire prospettiva in cui mi muovo io da molti anni insegno etica di impresa anche ho insegnato sei anni in una scuola di impresa e onestamente avevo la sensazione che c'era qualcosa che non andava del tutto bene almeno secondo la mia formazione poi sono contento di vedere che il Papa è d'accordo con me quando lui ha detto queste cose no bene allora dice una etica economica che prescindesse da questi due pilastri rischierebbe uno perdere la propria connotazione prestarsi a strumentalizzazione e più precisamente questa è l'accusa più più forte rischierebbe di diventare funzionale al sistema economico finanziario esistente anziché correttiva delle loro disfunzioni cioè l'etica si vende si vende o si piega più che vendersi o se si piega alla forza alla difficoltà reale oggettiva del mondo economico alle sfide ma anche agli egoismi e alle prepotenze che questo mondo è capace di generare da una parte ci sono reali difficoltà di creare un sistema economico di creare valore di creare ricchezza di uscire dalla povertà che ha dominato la umanità durante 50.000 anni poi di mettere insieme iniziativa imprenditoria lavoro diritti eccetera eccetera è una grande sfida non facile l'altra parte il signore denaro è reale è reale l'immagine biblica del vitello d'oro non è immaginazione non è immaginazione allora il pericolo e questa è un po' la conclusione poi facciamo il cammino insieme il pericolo è che davanti a questo grande mondo a queste grandi sfide da una parte di creare ricchezza di ricreare benessere di creare di far emergere tutti nel senso un benessere per tutti di includere tutti che non ci siano esclusioni tutti questi grandi ideali e davanti anche ai grandi passioni umane dell'egoismo che davanti ai soldi esistono e del denaro ci presentiamo con un'etica debole con un'etica che non ossa avere un messaggio forte stimolante sfidante a questo mondo allora questo questo è un po' la nostra sfida per questo adesso facciamo insieme un piccolo percorso di storia degli ultimi 30-40 anni di etica di impresa per vedere quale etica o almeno alcune espressioni di una etica che si interfaccia con il gran mondo economico io non dico imprenditoriale perché è più grande il grande mondo economico vediamo sintomi di una etica che si si impicolisce per così perché perché è difficile è difficile per esempio io ricordo sempre quando diceva ma tu che fai hanno insegno etica o sa business ethics no? in inglese e tutti tutti che business what o sa con no? business what o sa mi è successo moltissimo per esempio quando viaggiavo per fare le lezioni mi trovo con una persona in cammino nell'aereo tu che fai ah no vado a fare una lezione di etica business ethics business what no? c'è questa un po' scetticismo qualche volta no? ma questa è la sfida veramente di cercare di fare insieme il mondo economico e la etica insieme e questo è quello che voi anche nella parte nella parte della INE lì state facendo cercando di capire come come in una situazione di lavoro anche su un profilo particolare la etica si 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 interfaccia no? allora dice concludendo non ricorrere alla parola etica in modo ideologicamente discriminatorio lasciando intendere che non sarebbe etica le iniziative che non si freggiassero formalmente di queste qualifiche no? lui si riferisce qui alle certificazioni etiche cosa che un'attività abbia no? il certificato attenzione dice non basta questo no? non basta ovviamente senza togliere il valore bene andiamo allora allora bisogna adoperarsi quello che vogliamo fare qualche anno fa un sociologo un sociologo francese Gilles Lipovetsky Lipovetsky ha scritto questo libro L'impero dell'effimero la moda nelle società moderne allora è un libro sulla moda ma poi ha scritto anche questo il crepuscolo del dovere l'etica indolora o indolore l'indolore dei nuovi tempi democratici vedete la parola crepuscolo del dovere la parola dovere non si usa e poi un'etica indolore più democratico allora in quel libro lui ribadisce che l'etica di impresa è precisamente questa etica democratica indolore e ha sostituito le parole doverose prima coscienza dovere bene male peccato è una parola che non si usa molto in etica ma esiste il problema per altre parole trasparenza responsabilità eccetera allora è lo stesso prima di lui nel 1956 una filosofa inglesa Elizabeth Anscombe è stata richiesta di prendere la cattedra di etica al Cambridge dopo un famoso professore lì Wittgenstein e lei ha detto no non lo faccio perché la etica è morta bisogna rifare le basi in che senso era morta secondo lei dice la etica è nata la nostra etica occidentale la nostra doctrina etica occidentale è nata dal mondo greco poi dal mondo biblico e poi dal mondo della cultura cristiana che è stata la convergenza di questo questa etica anche greca supponeva supponeva che quando si parlava di legge morale che c'era un legislatore con la L grande che quando si parlava di precetti morali che c'era un precettore quando si parlava di bene e male di giudizio della differenza fra bene e male dietro per così dire c'era la L il legislatore nella età moderna ma si parla di moderna a partire del secolo XVI questa è la filosofia moderna per diversi motivi per le guerre religiose per l'avvento del scientificismo eccetera molti molti influssi culturali filosofici geografici eccetera eccetera ha fatto che la la tendenza fosse a togliere non necessariamente a negare l'esistenza di quel legislatore ma di togliere i legami allora il diritto per esempio è diventato just naturalistica nel senso che facciamo le cose come se Dio non ci fosse non dico che non c'è ma dobbiamo organizzarci come se non ci fosse dobbiamo pensare organizzare fare le leggi eccetera eccetera e man mano man mano le stesse parole bene male giudizio eccetera eccetera si continuava a usare ma adesso senza le radici originali e questo signore diceva che queste parole rimangono rimangono come piante che tu tagli le radici la pianta rimane in piedi ma adesso con la differenza che io posso prendere la pianta da qui spostarlo qui è assolutamente lo stesso allora io posso prendere le parole etiche diversi no spostarle da una testa a un'altra testa a un'altra testa a un'altra testa la stessa parola ma in terreni totalmente differenti ed è questo che è successo ed è questo culturalmente in generale questo è quello che che sta succedendo qui con i ragazzi dell'università tu cominci a parlare con loro di questi temi e di ah secondo me secondo me secondo me e ognuno ognuno ha il coraggio di diventare legislatore secondo me no no sì 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 ma secondo me e questo secondo me è forte in loro è forte con una sicurezza che questo è così questo è così la stessa parola io faccio qui un'attività che lo chiamo Irish coffee filosofico voi sapete che cos'è un Irish coffee no? che è whisky più whisky più whisky e poi caffè e panna magari lo facciamo qui un giorno alla fine per celebrare anche adesso con il caldo non è non è molto gradito e facciamo un po' la filosofia e quando la tendenza almeno è questo io secondo me secondo me allora questa è una impostazione forse molto molto generica ma è importante è importante in linea anche di quello che dice il Papa qual è etica qual è etica e quali sono i pilastri della mia etica dove dove alla fin fine dove si fondano allora io io considero che in qualsiasi corso in qualsiasi ambiente anche non è questione soltanto di cristianessimo o religione perché anche i filosofi che non erano cristiani anche i stoici per esempio cercavano di dire non è possibile che questa pianta non abbia radici allora cercavano ognuno a modo suo di trovare la radice e così via oggi anche c'è chi va in profondità no? allora vi faccio una caralata di presentazioni della etica per la impresa prima impostazione saranno un 6-7 quello che chiamo la prospettiva del business cioè l'improfite sembra essere la finalità più chiara di un'impresa la parola deriva del latino e significa andare oltre ma questo non ci interessa adesso un esempio di questo è stato un articolo di Milton Friedman nel 1970 lui era un po' arrabbiato e stufo dell'insistenza sulla responsabilità sociale nel 1970 siamo in una fase no? caratterizzata da molte per esempio pensiamo no? il comunismo era dominante nel mondo tutta Asia era comunista tutta Africa era praticamente comunista tutta America Latina aveva governi anche molto di sinistra e la maggior parte d'Europa era anche sotto il dominio del comunismo in quell'anno 1970 c'è stato qui in Roma un sinodo dei vescovi sulla giustizia in quell'anno è stato pubblicato un libro molto importante sulla giustizia di John Rawls che è la teoria di giustizia e in quell'anno anche è stato pubblicato un altro libro molto importante che si chiamava Teologia della Liberazione di Gustavo Gutierrez allora c'era un siamo a due anni dopo il 68 allora c'era un grande fermento sul tema della giustizia no? o sa allora si parlava allora della responsabilità sociale e lui dice dice la responsabilità sociale dell'impresa è incrementare i profitti perché? perché il direttore di un'impresa soprattutto di azionisti non ha il diritto di fare il bene sociale con denaro che non è suo no? leggendo bisogna leggere questo nel contesto ma io prendo adesso se volete la frase perché anche se Friedman lo spiega bene in un contesto più generale non voglio ridurlo no? ma in qualche modo questa frase fece anche una specie di scuola no? o sa business is business no? la impresa è un'attività economica i profitti sono assolutamente essenziali in qualche modo questa è una prospettiva ogni prospettiva del vero ma anche delle mancanze adesso non c'è il tempo di approfondire tutto ma semplicemente vedere un po' il percorso no? beh scusate questo è un trucco per svegliare i studenti allora un altro esempio qui la prospettiva delle due moralità una cosa è la tua vita privata ma non pensare che tu puoi vivere così nel mondo del lavoro della impresa dell'economia e questo autore Albert Carr scrive nel Harvard Business Review siamo nella nella rivista più importante per così dire del mondo dell'impresa dice is business bluffing ethical cioè bluffare è etico nel business allora lui fa il paragone con il gioco dice nel poker che io ti guardo nella faccia e ti faccio credere che io ho la mano piena e ti ti vinco 10.000 dollari e tu perdi 10.000 dollari dopo non mi puoi dire ah no tu non sei stato etico questo è un gioco sappiamo le regole allora lui senza problemi dice che ci deve una cosa è l'etica che tu vive nella casa con la moglie con il marito con i figli ma un'altra cosa sono le regole della vita della impresa cita fa una citazione del presidente Truman che diceva se tu non ti piace il caldo non entrare in cucina lui lo diceva della politica dice se non hai stomaco per ingoiare e per assimilare le cose della politica fai un'altra cosa allora la tentazione di pensare in due etiche in qualche modo regole speciali divorziate della vita privata un'altra prospettiva forse scusate che forse l'ordine non è perfetto la prospettiva dell'etica professionale c'è chi dice che basta considerare il mondo economico che è il mondo dell'impresa come una professione allora c'è già la professione del medico avvocato psicologo ha un modo dell'etica allora come funziona le etiche professionali le etiche professionali stanno basate su alcuni principi che chiamano prima facie principi sono principi evidenti al primo sguardo nel senso trasparenza autonomia non essere pagato da un altro per dirmi una cosa tu devi operare nella tua professione con autonomia tua legalità deve essere dentro delle regole competente non deve uscire fuori della tua capacità giustizia e poi la prima che è presa dalla professione medica fare il bene non fare il male con il potere che la professione ti dà allora c'è per esempio un grande professore di management Peter Drucker difendeva molto questa dice non insegnare non parlare di etica di impresa come se fosse un corpo separato di etica ma basterebbe essere professionisti questo vale anche ma c'è un problema questi principi anche se uno vuole domandare basato su che perché devo essere giusto nel momento di una tentazione grossa perché dovrei essere allora questo ultimo perché non è affrontato per così dire bene prospettiva della etica minima Carr diceva etica doppia ma c'è chi dice sì c'è un'etica ma anche c'è una versione per così dire minima tu non puoi andare alla impresa con un'etica sublime e qui un'etica troppo rigorista eccetera c'è un autore un'autrice Laura Nash che è una sconsulente di impresa che scrive questo articolo anche nel Harvard Business Review dell'81 dice etica senza il sermone perché Dio io che faccio il sermone allora mi arrabbio ma perché qual è il problema del sermone che capisci che cosa mi stai dicendo quando dice etica senza sermone per esempio per voi che cosa è un sermone e perché lei dice che non vuole l'etica vuole l'etica senza sermone secondo voi che che vuol dire la predica qual è il problema con la predica come quale sarebbe il problema aspetti non essenziali ok sì sì bene anche sì sì senza vincoli sì sì ok allora cosa troppo complesso troppo impegnante e lei fa precisamente questa paragone anche parabola che lei chiama good puppy theory allora se tu hai un cucciolo a cassa io ti domanda è buono è un buon cucciolo e dice ah no sì 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 io ti domanda perché per definire un cagnolino buono che cosa gli esigi o sai che cosa è necessario due dice lei dice uno che non sporchi che non sporcare il tappeto no e secondo non mordere il bambino quando il bambino gioca con il cane che non lo mordi e basta no poveretto non chiediamo troppe cose a questi animali no allora in qualche lei poi ovviamente non chiede due cose l'ha impresso sa che ma un po' quello tutti questi autori poi sono più articolati sono più articolati ma quello che vi voglio insegnare sono i titoli un po' perché perché questi titoli questi slogan questa è questo che fa la cultura no etica senza il sermone no good puppy no il gioco sa allora no quando uno quando uno vede che questa nelle scuole nelle scuole di alta formazione questo viene ripetuto no il professore io ricordo quando insegnava una volta ho assistito a un professore che faceva una lezione su il corso si chiamava hyper competition cioè la la concorrenza fra i grandi giganti no e lui lui spiegava no questo con una passione come loro si prendono pugni no nel senso senza in qualche modo senza misericordia no ricordo che lui faceva così con il piede bisogna schiacciare schiacciare il concorrente e poi mi ha visto e poi vai a confessarti con il padre Ryan o sa scherzava no ma no ma questo era un po' il clima io sto parlando degli anni 80 questo era un clima sa bisogna entrare come il pugilista che entra al ring con un grande no opponente allora bisogna entrare con questo allora questa è un'altra altra espressione purtroppo no purtroppo alcuni dei nostri problemi oggi io credo che sono frutto anche di questa educazione no il successo la la concorrenza il dobbio il gioco no il mondo sa per esempio dire che il mondo del lavoro sa l'impresa è un gioco no è gravissimo perché perché le persone vanno lì a vivere o sa dedichano 60 anni della loro vita a quell'attività o sa il senso della vita sta lì allora no adesso non faccio troppe troppe commenti un'altra cosa allora stiamo arrivando adesso anche cronologicamente in qualche modo negli anni 80 anche si è cominciato a parlare della necessità dell'etica corporativa cioè dell'etica di impresa non può essere un'etica individuale io parlo con te perché perché l'individuo è debole in un intorno di impresa io ho bisogno di sentirmi parte di una di un corpo che pensa in forma omogenea no omogenea allora usa buone persone e usa l'etica a tre livelli buone persone corporazioni buone e strutture buone che mi possono sostenere nelle mie decisioni in quella in quella prospettiva scusate che allora di nuovo faccio tre tre esempi uno che si cita molto è il caso del Tylenol di Johnson & Johnson e negli anni 80 hanno trovato in una farmacia di Chicago se non mi sbaglio una bottiglia di Tylenol avvelenata il direttore regionale del Johnson & Johnson ha mandato subito ritirare tutto il Tylenol di tutte le farmacie per un costo di 40 milioni di dollari allora uno si domanda con quale animo lo ha fatto lui dice lo ha fatto con fiducia che i miei capi mi avrebbero sostenuto risultò che non hanno trovato più bottiglie avvelenate e questo è stato un grande anche pubblicità per il Johnson & Johnson lo sa hanno recuperato subito per così dire perché hanno dimostrato che si teneva veramente la salute della gente in primo posto ma lui questo direttore ha avuto bisogno di un grande lui sapeva che qui si pensa così non io ma qui del lato opposto si cita anche con discussione non voglio adesso essere per così dire etichettare questi casi ma servono il caso negativo è stato della Ford che ha avuto una cioè hanno scoperto che una modello la Ford Pinto aveva il serbatoio della benzina molto debole e che in un urto incendiava la macchina allora è venuto fuori dopo nel tribunale che questi hanno scoperto memorandum interno della impresa giudicando i costi e c'è uno anche sta sull'internet dove si pubblica la lista di danni possibili allora erano non so centomila unità allora vuol dire che statisticamente ci saranno cento morti cinquecento ustionati quanto costa problemi legali sicura allora costava non so dieci milioni di dollari ritirare tutte le unità cinquanta milioni di dollari signore lasciamo correre le cose cioè di nuovo faccio una parentesi chi giustifica la la ford dicendo dice tutte le macchine erano pericolissime pericolissime in quelle in quell'epoca o sai i materiali di tutte le macchine erano così soltanto che questo è emerso così ma semplicemente per illustrare ad ogni modo perché una persona prende una decisione forte ci vuole il sopporto di una cultura di una cultura di gruppo c'è una bella un bel scritto su questo tema di un autore Maccoy che si chiama la parabola del Sadhu è molto bello perché lui questo Maccoy è un imprenditore ma anche un alpinista le piace l'alpinista allora stava lui con amici facendo una scalata nella nelle Himalaya e c'era una una vetta una cima che non erano mai riusciti e quel giorno era perfetto no la temperatura eccetera eccetera allora hanno cominciato a salire con un altro gruppo di inglesi e un altro gruppo di giapponesi no scendendo dalla montagna già a alta quota hanno trovato un monaco buddista questo Sadhu che scendeva dall'altra parte ed era già sfinito questo gruppo di uomini l'hanno visto si sono mosse a compassione ognuno ha dato qualcosa chi acqua chi cibo chi una una coperta hanno detto buona fortuna avanti lui quella sera ha pensato questo uomo sicuramente è morto tutti noi individualmente abbiamo fatto una cosa per lui ma tutti noi sapevamo che non bastava e ci voleva la decisione del gruppo di fare la soluzione definitiva che sarebbe stato accompagnarlo scendendo allora lui dice nel mondo dell'etica per così dire ci può essere ognuno fa il bene ma se non c'è l'insieme forse non riusciamo a fare il bene che era necessario in linea di massimo allora ma già vedete come no man mano veniva fuori già con questo tipo di discorso già un concetto differente dell'etica no impostazione virtuosa allora allora che cosa vuol dire questo c'è chi pensa no la impresa l'etica e dice questo qui è una giungla questo qui è il demonio questo qui è un labirinto di passioni e l'etica deve venire a informare a strutturare ma è un'etica per così dire da fuori che viene a informare questo mondo che in sé stesso è giungla labirinto eccetera no questa impostazione qui dice no dice il mondo della impresa in sé stesso è un mondo virtuoso nel senso per fare un'impresa ci vuole coraggio rischio responsabilità collaborazione perseveranza pazienza chi vuole tutto questo trasparenza onestà nel tratto nei contratti un buon servizio no allora facciamo emergere tutto questo quando un'impresa non è virtuosa no non è per colpa dell'impresa ma è l'uomo che per così dire che non realizza quell'attività all'altezza che l'attività stessa ti richiede è come un un atleta no che corre no o sea un velocista e la stessa carriera o sea tu non puoi rimanere lì a vedere un po' le stelle o sea tu devi muoverti no tu devi spingerti allora la stessa attività in questo caso imprenditoriale è piena di virtù e quando vediamo per esempio chi pensa così quando vedono il disastro economico molti di loro dicono vedi questo è un disastro perché non hanno fatto bene la impresa lì per esempio io ho sentito loro dicendo il fallimento dei mutui dicono non è un problema di etica è un problema di business tu non presti a una persona che non ti può pagare come vi dico c'è e non c'è adesso non entro in merito ogni impostazione ha delle cose buone le cose l'accusa adesso vi voglio lasciare un po' semplicemente la sensazione della carrellata dove approda tutto questo allora questa è un'idea molto sviluppato da un certo gruppo di pensatori negli Stati Uniti che dicono no fare bene l'impresa già è in sé stesso un'attività per così dire virtuoso e tu crescendo in queste virtù fai meglio anche la tua vita di impresa per esempio quest'autore che prende le virtù di Aristotele di onestà giustizia e coraggio insistendo di nuovo che il mondo del lavoro è un mondo che esige molte virtù io credo che anche questo è molto bello per l'obiettivo che questo corso sta per è vero questo nel mondo dell'impresa che sia un mondo di virtù io cresco precisamente nelle mie qualità virtuose bene bene allora ci sarebbe altri suggerimenti da fare dal punto di vista cristiano è una grande domanda una sfida grande un cristiano dice io faccio impresa o io lavoro in un'impresa ci dovrebbe essere qualche differenza tra chi è e chi non è allora per una persona che non sa ci tiene ci potrebbe dire anche allora non so una cosa fatta da un prete e non prete ci deve essere qualche differenza è una domanda difficile perché non è il fatto di essere prete che sono più bravo di chi non è prete ma d'altra parte o cristiano e chi non è cristiano ma d'altra parte certamente c'è c'è un input differente no differente che in qualche modo dovrebbe dovrebbe fare almeno una differenza non dico un miglioramento o peggioramento ma una differenza e sicuramente sarebbe già una allora questa sarebbe una sottosezione nel nel tema delle virtù bene il Papa Giovanni Paolo II ha recepito molto questa dimensione virtuosa nella sua enciclica sulla centesimo sanus bene ci mancano due impostazioni leadership allora è un'altra dimensione un'altra angolatura da dove anche si parla di come si può fare la etica in un'impresa e c'è un un bel studio di questo Jim Collins di nuovo Harvard Business Review del 2000 questo Collins scrisse un libro che si chiama questo articolo The New Leader ma dopo ha scritto il libro Built to Last l'ha costruito per durare lui ha esaminato la lista delle cinquecento imprese della Fortune Magazine del 1900 credo cinquanta e ha visto che di queste cinquecento rimanevano vente in vita e si è domandato ma perché che cosa c'è nella impresa che lo fa durare e lui ribadisce e ha tutto un istituto di studio su questo dice in ognuno di queste imprese c'è un tipo di uomo che lui chiama leader del livello cinque e fa questa questa graduatoria uomo capace di squadra competente effettivo ma al livello cinque c'è un uomo umile e tenace allora questo era importante in un periodo che leader imprenditoriale molti di loro erano un po' jet set famosi aereo privato per così dire e lui dice attenzione nelle imprese che durano c'è sotto sotto perché leader può essere chi sta sulla nave sopra ma anche può essere chi sta sul periscopo sotto si dice periscopio 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 che precisamente guida la nave la nave in questo caso il submarino allora questo era un'altra prospettiva di etica bene su questo spero di poter ritornare perché io credo che questo potrebbe essere un po' la prodo del corso nel senso di creare il senso di leadership in ogni persona ma su questo tornerò no bene ho trovato questa battuta no let's get rid of manager buttiamo via i managers no la gente non vuole essere maneggeriato generiata they want vogliono essere no maneggiato maneggiato vogliono essere condotti no dice chi ha parlato mai di un manager mondiale ma di un leader mondiale sì leader educazionale leader di comunità scout leader business leader eccetera dice questi conducono non maneggiano dice la carota vince sul bastone domanda il tuo cavallo tu puoi condurre l'uomo il cavallo all'acqua ma non lo può per così dire maneggiare come beh sì se tu vuoi maneggiare qualcuno comincia con te stesso e così sarai pronto a lasciare di manipolare in qualche modo gli altri e comincia a essere leader degli altri allora il concetto del leadership magari avremo occasione di ritornare su questo molti altri impostazioni sono stati presentati io voglio all'ultimo cioè noi siamo adesso approdati alla impostazione della responsabilità sociale già negli anni finali degli anni 80 credo più o meno si cominciò a parlare già dei stakeholders e a presentare questa idea anche al mondo della impresa come modo di pensare l'agire non isolatamente nella impresa chiusa su se stessa ma in qualche modo aperto ai stakeholders no bene allora questa è un po' l'immagine oggi che la impresa è chiamata avere no in qualche modo con rapporti con tutti i stakeholders allora qui vi lascio un po' con due domande uno è chi me lo fa fare nel senso la motivazione è una domanda che si fa e che non è risposta con una teoria etica che mi fa fare perché mi devo preoccupare in una forma al di là al di là del minimo per così dire con il fornitore con la comunità con i lavoratori la motivazione ho visto un discorso di una signora commissaria della Unione Europea che parlava precisamente agli imprenditori e diceva io vi chiedo da una parte vi chiedo di anticipare voi volontariamente le leggi non aspettare che vengono leggi perché le leggi arrivano troppo tardi noi facciamo prima il disastro e poi qualcuno fa una legge ma già è tardi allora dice il mondo economico è così potente è così trainante è così impattante le sue decisioni sono così gravi per tutta la comunità voi non potete essere persone dire allora io faccio il minimo legale o aspetto la legge o andiamo al disastro allora ha presentato così il tema la responsabilità sociale è basata soprattutto nella volontarietà nella volontarietà era un richiamo alla precisamente non ci sono le leggi avete bisogno di andare oltre le leggi molto oltre le leggi se no arriviamo tardi e poi si è presentato dice perché lo dovete fare e ha detto vi sarà anche nel vostro interesse economico allora dice chi lo farà per questo argomento che è anche nel vostro interesse economico e poi ha lasciato cadere un po' questa frase e chi lo farà per altri motivi allora in qualche modo siamo lì davanti alla etica di impresa quando uno parla a imprenditore di etica uno ha un po' di difficoltà perché da una parte se io vi parlo in una forma che non vi faccia guadagnare i soldi non mi volete ascoltare andrete in chiesa andrete credo no ma no la impresa deve deve no la etica di impresa ha camminato da una posizione molto molto economico tipo della espressione di Milton Friedman la responsabilità sociale della impresa e incrementare i profitti anche se capito in un contesto giusto e siamo oggi davanti a una grande esplosione di etica un grande interesse per l'etica ma no la motivazione è quello che ancora io credo che dobbiamo approfondire la motivazione economica e dire allora no la etica è anche economicamente positiva e la domanda quali sarebbero gli altri motivi di cui parlava quella commissaria quale come si potrebbe no sviluppare che peso hanno sono necessari io possiamo lasciarli fuori onestamente io credo di no perché ritorniamo un po' a quello che abbiamo detto la etica taglie fuori le radici e una etica senza radice e profondità io ho paura che si lascia manipolare con diverse parole no ma siccome non ha radice allora in ogni testa può significare una cosa diversa beh allora questo è un po' il tema che vi volevo lasciare no 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 no